E allora è ricollata questa 10.000 metri di eliminazione delle allieve. Ricordiamo che è già finale, finale diretta, infatti vediamo il gruppo ben movimentato sin da questi primi giri. Al passaggio saranno 46 giri da percorrere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Al passaggio la campana per la prima eliminazione, al prossimo giro si elimina. Numero 406 ammonita. 85 eliminata. numero 94 eliminata per taglio di percorso. Salta quindi la prossima eliminazione. Numero 94 deve fermarsi per taglio di percorso. Salta l'eliminazione al passaggio. numero 4, 7, 7, 7, prima munizione. Minero 38 il passaggio. 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 Minero 38. Grazie. 618, attenzione alle cadute, attenzione alle cadute, i sanitari pronti, attenzione alle cadute, la 618 si è fermata le eliminazioni di prima. Quindi salta questa eliminazione, la prossima eliminazione va a meno 27. La 618 deve fermarsi, è stata dall'eliminazione di tre giri fa, deve fermarsi, 618 deve fermarsi. Siamo a meno 30 intanto. Siamo a meno 30 intanto. Al passaggio campagna di mino 28, prossimo giro riprendono le eliminazioni. Attenzione sempre all'altra caduta sul rettilineo d'arrivo, occhio alla caduta. 548, campagna di mino 26. Alla gonna diventare il caso del chute, è a me servire al campo più alte, ogni affermarka di queste condività. «Cons Leben, attenzione alle cadute, 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 attenzione alle cadute» 5-4-7 numero 4-7-7 entra in infida seconda munizione eliminazione di meno 23 4-5-5 numero 8-6-7 campana di meno 22 4-9-6 passaggio meno 20 mili numero 26 ammunità 1-6-2 campana di meno 18 numero 44 monica 2-5-8 campana di meno 16 154-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- minuto 14 al passaggio 3, 6, 4 minuto 12 si 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 campana di meno 10 ancora dieci 4, 0, 6 minuto 8 al passaggio 26 campana di meno 6 si 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 4, 7, 7 Ora si alinea sempre ogni giro al passaggio e da eliminazione eliminazione di meno 2 44 anche al passaggio eliminazione e capace l'ultimo giro 176, 176 alla volata finale ed è arrivo un dirigente del Bosica